Vieni riducelo, ringraziarti non è un problema, ti teleponerò, ti offrirò una serata strana, il petto è solo sei. Quattro dischi, un po' di whisky, sarò quando devi fare, fanno spazio e dopo mi direi. Che maschio sei, l'unico è, come mai l'esperienza. Sì, finalmente quest'anno ci siamo rifatti un po', logicamente rispettando quelli che sono i termini del Covid, quindi certificando a ciascuno che ha venuto alla scena, non come negli anni passati, liberamente, ma soltanto nominativo, con posti assegnati e rispettando le distanze. Abbiamo dato un po' di festa a questo paese, speriamo che la gente si sia divertita, penso che ha mangiato anche abbastanza bene e quindi viviamo sempre in auge e sempre in forma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.